Allora Antonio, un flash sulla partita di domenica scorsa, anche perché insomma ormai ci siamo, la Juventus è praticamente arrivata, nella domenica forse più delicata la prestazione è più convincente dall'inizio della stagione? Una bella partita perché finalmente abbiamo cercato di fare tutti quanti una cosa fatta insieme, quella cosa più importante è quella di correre tutti insieme, noi l'abbiamo fatto però facciamo in modo sbagliato, noi nelle altre partite che correvamo, correvamo tutti disorganizzati, invece stavolta siamo stati tutti compatti per arrivare ad un obiettivo importante, quello dei tre punti. Che cosa è cambiato? Cambiato niente, perché già con il Chievo abbiamo fatto una buona gara, secondo me allelo fisico è una gara più importante di quella con Parma, però purtroppo nel calcio anche facendo una gara quasi perfetta perché poi in dieci quel campo solo lo faccio ricordare, abbiamo mollato un pochettino, però il resto è stata una buona gara, peccato per il risultato, invece per il Parma c'è stato pure quello quindi è cambiato molto, in due punti era importantissimo tutto per l'abbiente, un po' per la situazione. In stagione già c'era stato un momento positivo, quanto meno sul punto di vista dei risultati, salvo poi ripiombare in amnesie di prestazione e quant'altro, perché questa volta dovrebbe essere diverso? No, speriamo che non succeda, perché altrimenti quello che abbiamo fatto prima non c'è servito a niente, quindi dobbiamo fare tesoro dei nostri errori e cercare di migliorare il futuro, perché noi sappiamo benissimo che la sera è una squadra molto importante, però nonostante sono squadra importanti non sono imbattibili. Ma rispetto ad allora c'è una consapevolezza diversa, al di là della speranza, una consapevolezza diversa che ti lascia dire questo? Sì, secondo me sì, perché pian piano poi il campionato poi si conosce, i valori li conosciamo, noi possiamo essere pure la squadra più debole, però non è detto che la squadra più debole deve perdere la forza, noi ci dobbiamo mettere sicuramente qualcosa in più delle altre, è quello della corsa, determinazione, umiltà, e con questi ingredienti comunque dobbiamo riuscire a fare le nostre delle partite importanti, infatti con le Corparma abbiamo incontrato una squadra molto in forma, perché questa ha fatto 4 vittorie consecutive, quindi sono arrivata a pescare e le abbiamo battute, e questo ci fa pensare positivo perché abbiamo fatto prima cosa una buona prestazione, poi dopo risultato. Come avete vissuto il ritiro nei giorni precedenti, che cosa... Beh, se non è contento, no? No, vabbè, contenti... Se vai a ritiro comunque non sei mai contenti, prima cosa, però potresti che questo ci ha fatto bene, perché comunque forse la pressione si era alzata un po', quindi vi sono usate le sconfitte che abbiamo maturato. Il fatto di staccare anche con l'ambiente può essere stato di aiuto? A volte si deve essere consapevole di dove si gioca, è una parte positiva e è una parte negativa, però diciamo che comunque abbiamo preparato una partita delicatissima in un ambiente molto più tranquillo. Perché quanto... Se arrivate la partita con il Parma, la squadra si sia anche un po' responsabilizzata, ovvero se arrivate a un bivio, o siamo tutti con l'allenatore... Ma invece no, questo no, assolutamente no, perché qua non c'è nessun bivio, l'allenatore o la squadra, qua c'è il pescaro, quindi tutto insieme. Quindi c'è un bivio, o andare bene col pescaro o no. E noi dobbiamo far sì che comunque tutto l'ambiente sia compatto per cercare di salvarci, perché se una parte o l'altra parte si disunisce, questo non avviene. Dobbiamo rimanere tutti nella stessa parte perché altrimenti si fa fatica in sedia. Però c'è stato un confronto chiarificatore evidentemente, no? Non c'è stato neanche bisogno di questo? Sì, no, è normale che comunque quando le cose vanno male bisogna, purtroppo dobbiamo parlare, cercare di capire qual è il problema, anche senza offendersi. Penso che in quei giorni comunque ci sia stato qualche chiarimento, da parte sia da parte nostra, da parte della natura, da parte della società. Queste sono cose che comunque vengono fatte tranquillamente, perché comunque abbiamo un obiettivo in comune. Senti, quanto ha influito secondo te il cambiamento del sistema di gioco? Noi abbiamo fatto delle prestazioni molto positive sia con il 4-3 e anche con il 3-5-2. A volte siamo andati a Chievo, a Verona, giocando 3-5-2, abbiamo perso. Poi invece col Parma è stato tutto meglio. Però le due prestazioni, comunque abbiamo fatto due prestazioni buone con il 3-5-2. Poi una parte del risultato non è venuta, l'altra partita sì. Comunque a 3 ti senti più protetto in difesa, giocando a 3 rispetto a 3 o a 5 rispetto a 5. Certo, a 5 sì, perché c'è un uomo in più. Però noi dobbiamo solo cercare di essere compatte, cercare di essere equilibrate. Ora a 3 o a 4 in difesa o a 5 o a 4 in difesa cambia poco. L'importante è di essere comuni. Anche se Stroppa l'altro giorno ha detto che adottare questo modulo, cioè non nasce questo modulo per la necessità proprio di proteggere meglio il reparto retrato, tutt'altro. No, questo l'ho fatto all'inizio, mi ricordo, da Zaccheroni, è un modulo molto offensivo, perché giocando a 3 in difesa ci cercava comunque di avere un centrocampo molto più aggressivo e quindi ad avere tre attaccanti. Questo può essere come lo fa la Juve, la Juventus, come lo fa il Napoli. Queste sono tutte squadre che comunque giocando a 3 in difesa, c'è un uomo in più in difesa e quindi qualche esterno, qualche centrocampista riesce a prestare più in attacco. Quindi a volte si gioca a 5 ma è come se fosse un 3-4-3. Sotto questo profilo ci proiettiamo verso il prossimo futuro imminente, che si chiama Juventus. Siete come la squadra bianconera. Noi siamo ben azzurri, noi siamo ben azzurri. Fate gli scherzi, questa è una partita. Affrontiamo secondo me una delle squadre più forti che adesso c'è in Europa. Quindi dobbiamo cercare di fare tutto perfetto, perché se si sbaglia un po' così, questi ci puniscono. Sta cambiando qualcosa in allenamento, in previsione di questa partita, che comunque è importante come tutte le altre, ma è comunque la Juventus? Questa è una squadra che da parte mia e da parte pure dei ragazzi comunque cambia, perché comunque affrontare una squadra, con tutto il rispetto che chi ieri ha giocato in Champions, è sempre molto più stimolante. Però è capitato anche a volte che giocando una squadra stimolante poi si arriva al campo un po' scarico, perché poi si pensa tutta la settimana. Invece dobbiamo cercare di stare molto più tranquilli, cercare di affrontare la gara in un modo sereno, però cercando di capire che ci siamo anche noi e cerchiamo di mettere in difficoltà la squadra importante. Sotto questo profilo non avete nulla da perdere. Non sei d'accordo con me? No, no, assolutamente no, perché ci sono i punti in pari. Sappiamo benissimo che è una squadra importantissima, benissima che sicuramente ci metteranno in difficoltà, però incominciare già abbattuti sembra ridicolo. Dobbiamo giocare sicuramente come le altre partite, però sapendo che abbiamo una grande squadra e quindi bisogna avere un'attenzione massimale. È più o meno complicato preparare una partita del genere rispetto alle altre? È meno complicato, perché la partita si carica da sé, invece con le altre squadre, anche se a noi comunque questo discorso qua non deve mai capitare, perché secondo me le altre squadre sono sempre delle grandi squadre, quindi per noi non ci devono essere problemi. Quanto peserà l'assenza di Blasi anche per voi difensori in quella zona del campo importante per proteggere? Comunque lei è un giocatore che comunque ci dà grande esperienza, che comunque forse è uno dei pochi che ha giocato in grandi squadre, quindi oltre alla sua esperienza ci dà qualcosa in più a livello di aggressione. Però noi abbiamo Nielsen, abbiamo Togni e altri ragazzi che quando uscino non so se riesce a recuperare, però ci sono altri ragazzi che comunque riescono a fare sicuramente Biarsson e tutti di attimo, non voglio dimenticare nessuno, probabilmente non possono fare impianti per la LL. Sul piano personale, dopo il grandissimo finale di stagione scorso, ai nostri di partenza eri un po' nelle gerarchie, ritenuto da stampa, opinionisti, ma anche credo tifosi, un po' ai margini come ultima scelta, invece sei risultato non solo il migliore per rendimento, ma forse l'unico imprescindibile della difesa. Ha un sapore di rivincita a questo momento per te? Come lo stai vivendo? Ma io lo vivo tranquillamente perché chi mi conosce bene lo può testimonare. Io sono ragazzo molto tranquillo e molto schietto, quindi le scelte che abbiamo fatto all'inizio con la società, anche a giugno, comunque sono dimostrate quelle che adesso sono, nel senso che io potevo andare via se ci fosse stata una necessità, perché secondo me nell'allenatore, nella società voleva questo, io faccio parte di una rosa della scuola di Serie A, e lo sappiamo bene, in Serie A ci sono degli stimoli, ci sono di concorrenza, è giusto che sia così. Io non parto mai svantaggiato, se gioco o non gioco che io cerco di dare sempre il massimo per la squadra, e poi comunque c'è sempre il rettangolo verde che palla. Se vengo impiegato, faccio bene, non vedo perché non devo giocare. Il giudice è insindacabile, diciamo così. Quello io penso che comunque, non si può dire questa battuta, non la dico però, o me la dico in privato, come si diceva. No, volevo chiedere soltanto degli attaccanti della Juventus, chi preferirebbe evitare, chi ti piacerebbe che non ci fosse, insomma, Sabo. Tutti fortissimi, quindi... Dovessi indicarne uno? No, nessuno. Posso svalutare uno e l'altro, questi sono giocatori importantissimi, tutti giocatori che hanno fatto, qualcuno anche mondiale, quindi... E' stuzzicante anche giocarci? Molto stuzzicante, per la modifica, no, no, no. Questi sono giocatori importanti, che questi fanno sempre... E' bello vederli giocare, ed è bello giocarci anche contro. Se ti state adottando qualche accorgimento per limitare, per esempio Pirlo, che ne so... Non me lo dirai mai, però... Non è che non lo dico, ma Pirlo è immarcabile, secondo me Pirlo è immarcabile. L'hanno fatto le altre squadre con pessimi risultati, quindi non vedo... Quindi, per il momento non vi ha detto nulla, cioè lasciatelo libro. No, però adesso penso che la partita si... Siamo cominciando a studiare, però secondo me domani c'era una cosa in più. Antonio, ti volevo chiedere invece per quello che riguarda il tuo futuro, perché la società pubblicamente, insomma, ci ha anche detto che è intenzionata a breve, anche entro la fine dell'anno, a rinnovarti il contratto. Parte, insomma, la soddisfazione per questo, perché vuol dire che apprezza molto quello che stai facendo, c'è anche l'ipotesi, quindi che Bocchetti possa, diciamo, chiudere la carriera a Pescara, insomma, diventare una bandiera. Sì, mi viene da ridere perché poi... perché siamo arrivati quasi ai 10 goccioli, comunque. Mi sono arrivati 32 anni, quindi a giugno poi, l'anno prossimo faccio 33 anni. Sì, però, come l'ho sempre detto, non c'è stato mai problemi tra me, il presidente, tra me e il direttore sportivo dell'Icarri, quindi ci siamo promessi già a giugno che ci dobbiamo incontrare per rinnovare il contratto, tra poco ci sarà e quindi, sia da parte me che da parte loro, penso che non ci siano problemi.